Maroni ha preso la scopa e l'ha rimessa nell'armadio, perché poi quando si trattava di buttare fuori Rosimauro e di umiliare un po' il figlio, il trota, era semplice mettere la scopa. Adesso invece, come si è detto un po' di cose, Maroni è andato a trattare il federalista Maroni, il nuovo segretario, nonché ex ministro degli interni, che aveva polemizzato con Saviano quando si parlava dell'infiltrazione dell'antrangheta, ex ministro degli interni, che giustamente ha rivendicato una serie di arresti, di capi mafiosi, di camorristi, per carità. Che fa? Il federalista Maroni, ex ministro dell'interno, va a decidere le sorti del governo Formigoni a Roma e dentro questa cornice di contrattazione si contratta se nel caso della fine dell'esperimento, oramai della lunga satrapia di Formigoni come presidente della regione, votato dai Lombardi, per carità, si porta dietro anche il Veneto e il Piemonte. Cioè, il caso specifico non esiste più, è solo, diciamo così, un problema di rapporti politici all'interno di due ex alleati che si presenteranno separati alle politiche, ma che prenderanno delle batoste spaventose. Maroni con questa storia sembrava che la Lega fosse in lenta ripresa rispetto alle vicende di qualche mese fa. Altro che Lega 2.0. Lega 2.0 e si tratta, cioè, devono decidere, capiscono che senza Lombardia, Piemonte e Veneto è proprio finita. E quindi, diciamo, l'autodifesa di quello che resta si fa al palazzo del, come è stato già notato da qualche parte, è stata fatta nella sede di Forza Italia, poi Popolo della Libertà, cioè, si decidere se Formigoni doveva azzerare l'aggiunto oppure no. Poi Salvini dirà ad aprile, ma Salvini potrà dire maggio, giugno. In Italia si dicono tante cose, un giorno si dice che il candidato Berlusconi, un giorno dopo no. Quindi quello che sarà è un fatto che la scopa non c'è più. Che si accetta una cosa drammatica, come dopo una serie di altre cose, ma che questa secondo me è molto più grave, molto più grave, delle vacanze, le cose che pure... Beh, questa dell'andrangheta non è possibile, cioè non è concepibile. Tanto è vero che non è concepibile che il segretario del Popolo della Libertà ha espulso questo uomo. Cioè, non è che dice, sai, aspettiamo la magistratura. Lo ha espulso, come dire, non esiste più un rapporto con noi. Tra l'altro c'è da aggiungere che oggi Altanotti D'Alfano ha polemizzato col governo sulla decisione del Viminale di sciogliere il Consiglio Comunale di Reggio Calabria per mafia. Insomma, scusate, se la polverina si è dimessa per fiorito, diciamo così, insomma ci sono molte più ragioni che Formigone si dimetta... Chi fa una figura pessima è la Lega. E mi pare che Battista abbia detto bene che la scopa, così come l'hanno sguainata, l'hanno rimessa a posto. E c'è che era il vicepresidente di Formigoni nel 2005, già assessore della sanità. Era già stato fatto fuori proprio da Bossi sugli stessi temi, nel contrasto con Formigoni sulla gestione della sanità. La Lega ritorna, copre una gestione che è di eccellenza in taluni risultati, ma anche di eccellenza nella corruzione. Perché il caso di Don Verzele, del San Raffaele, con la contabilità doppia, un miliardo e mezzo di perdite. Sono numeri che fanno andare fuori di testa. Ora, l'eccellenza non è che può avvenire a scapito degli equilibri di bilancio.